I dati parlano chiaro, i casi da Covid sono quadruplicati nel giro di un mese in provincia di Lecce, erano 107 nel mese di giugno, sono 409 al momento. Niente allarmismi però, la crescita è del tutto fisiologica. Accade quello che siamo abituati a vedere da un po' di anni, cioè l'andamento delle infezioni da SARS-CoV-2 ha di solito un andamento bifasico, abbiamo una piccola ripresa dell'attività nel periodo primavera-estate e poi un'altra in autunno-inverno. Peraltro parliamo di dati ampiamente sottostimati rispetto ai contagi effettivi. L'extragrande maggioranza dei casi sono casi banali e quindi la gente o si fa il tampone fai da te oppure non se lo fa affatto e aspetta i classici 3-4 giorni che si risolva la sintomatologia. Le persone più a rischio sono quelle fragili come gli anziani, in particolare quelli ricoverati nelle RSA. Dobbiamo preoccuparci? No, credo al momento no. Dobbiamo preoccuparci delle persone fragili e quindi cercare di evitare di infettare loro che sono le persone che possono avere maggiori conseguenze. Comunque al momento le terapie intensive sono sostanzialmente vuote e anche i decessi sono molto rari. La settimana scorsa ce ne sono stati tre in tutta la Puglia quindi diciamo conseguenze gravi per i più fragili soprattutto. Per gli altri è una banale sindrome, sindrome da raffreddamento. Le precauzioni sono sempre le stesse e le raccomandazioni non cambiano. Consiglio intanto se si hanno questi sintomi di evitare di approcciare i soggetti fragili. Questo è il consiglio principale e soprattutto evitare i luoghi affollati per evitare che questa infezione si diffonda. Questo è anche uno dei motivi per cui c'è il nuovo picco. L'unica cosa certa è che dobbiamo imparare a convivere col Covid anche se questo termine nella Vox Populi rischia di diventare un tabù. Si parla anche di un po' di stanchezza diciamo da patologia quindi la gente non ne vuole sentire parlare più. Invece dobbiamo abituare a conviverci ma senza particolari timori e senza particolari allarmi. Però dobbiamo abituarci a convivere così come facciamo con l'influenza ogni anno e prevenirla quando è il caso di prevenirla. Ma non è un'influenza? Ormai ha un andamento simile influenzale ma l'influenza ogni tanto fa male.